Allora, di questa ricetta l'unica cosa un po' lunga è far bollire le patate perché per il resto in 10 minuti sono pronte. Sono Pam e questo è il mio canale, sana, veloce e vegetariana. Dopo aver lessato le patate le schiaccio con lo schiacciapatate. Aggiungo il sale. E rimesto. Le assaggio per aggiustare il sale. Prendo un uovo e lo sbatto con una forchetta. Ora taglio a pezzetti una scamorza, ma andrebbe bene anche la mozzarella per la pizza o un altro formaggio se preferito. Bisogna considerare che questo sarà il cuore della crocchetta, perciò i pezzetti devono essere piccoli. In un piatto metto il pan grattato, poi prendo un po' della mia patata, circa così, la schiaccio un po', metto dentro un pezzetto di formaggio, altrettanta patata. La lavoro per darla un aspetto sferico. La passo nell'uovo, quindi nel pan grattato e la metto in un piatto pulito. Le crocchette sono pronte. Adesso le devo spennellare con dell'olio da entrambe le parti, per poi cuocerle nella frigitrice ad aria. Bastano 11 minuti, avendo l'accortezza di girarle di tanto in tanto. Si può usare anche il forno se non avete la frigitrice ad aria. Bisogna scaldare il forno a 180 gradi. La cottura richiede circa 20 minuti, ma è opportuno ricorrere al grill per farle diventare croccanti. Eccole pronte, morbide e filanti. Mi raccomando, mangiatele calde, sono buonissime! Grazie per la visione!